no posto non sono 2 ah io sono mai so che questo ok r netto è però dovete stare mamma un uomo un po' è che quando si avvicini allo comando giocato il personaggio e mi prendo il mio caro dexter che ti do Ah, senza offesa Starei registrando Giusto per... Sabe che sto registrando? Perché? Misuro gli FPS, contemporaneamente registro Perché tecnicamente dovrei registrare Quindi se tutto va bene E il mega callo di Fremonti Io sono il mio caro Dexter In basso, Lorex, terza posizione Attenzione Guadagna strada 3 su 4, Lorex è migliorato 2, attenzione Terzo, di nuovo, e cade Ahimè Arriva ultimo, Lorex Eh, però, dai, non è possibile che ne esci Eh sì, però ho urtato uno per sbaglio E mi sono scappottato 20 volte Eh... quando c'è uno che... Eh... Con la maschera La maschera sarebbe quel coso tondo che gira Guarda il primo giocatore, no? Eh... Non lo dovresti toccare Perché per lui gli fa da scudo Non lo dovresti toccare Eh, non ce la fa È più facile quello L'orex di nuovo ci prova E ce la fa Non so se ne scopriamo se sono sincronizzati di tutti Non riesco a capirlo Sono sincronizzati di tutti Sì, sì, perché Siamo questo tracciato dove è la prima curva che fai Quando non sei sincronizzato Cati Invece qua ci siamo Beh, non calcolare l'orex Che insomma... Però aspetta è che se la sta battagliando Se la sta battagliando con Marco Quindi, insomma, non è che... Ho preso la TNT Salta? Come che si saltava? Con R1 R1, 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 R1 E ho promuoto pure il cerchio Che cacchio mi ha fatto Aspetta, ma c'è... Se c'hai quella maschera, no? Ti protegge Quindi potevi semplicemente... Però se cado fuori dalla mappa non... Se cadi fuori dalla mappa sei un idiota Eh sì, sì E so caduto, infatti Eh, non dovresti farlo Attenzione, altra TNT L'orex riuscirà a evitarla A sto giro Guarda che derepate che faccio Ma come poi I migliori sopra I peggiori sotto Che poi c'è competizione Come i... Da entrambi lati, eh Attenzione, l'orex sta per uscire dalla mappa Sta per uscire dalla mappa Eh, vabbè, ma come fa... Uh, eh, vabbè, ma... Sopertumbo, eh E Marco che lo è attaccato Anche qua... Che stronzo proprio Ah, no, ok Eh, si è fermato in mezzo alla mappa, là Oh, mo' lo attacco, sto schifoso Oh, siamo giocando una bellezza Attenzione Cioè, ti rendi conto Stiamo giocando a quattro Questo significa che... Beh, ogni partita sarà così, quindi È una grande cosa Capito, lo passo per l'uomo Grandissimo E' basso per l'umanità Eh beh, ovviamente Poi per i tornei dobbiamo vedere un po' come organizzare... C'è nel senso Non so se sia giusto fare un'equilibrio Tra... No, attenzione, l'ore si salva... Eh, però poi cazzo Un equilibrio tra più forti e più... Come si chiamano i meno forti, senza offendere? Eh... Gli scarsi Nei nabbi, ok In un... Ecco, non so se fare una cosa del genere oppure... Allora, io uso le bombe qua, che tanto non me ne faccio niente Ma intanto, comunque, il... La cosa essenziale c'è Parti, dai, lentissimo, quest'uomo Eh vabbè, ma c'è ad ogni curva, non sono reale Allora, riassumendo, Dorothy Game Che è mirato da tre ore, proprio Primo, col joystick Tu, Rick Con tastiera Ma è grande veterano Eh... Terzo, Marcus Staff, Team Forseida Uh, uh Eh, è l'ora che continua Che è col joystick È l'ora che non capisci un cazzo di sto gioco Ed è col joystick Ultimo Che c'è sto... Beh, c'è anche da dire che Marcus non lo conosce bene il gioco Però... Però, guarda i progressi, insomma Ti sta... Eh, vedi che lì sto... Sto attaccato a qualcuno Non so chi sia, però sto attaccato Uh, salta, salta Oh Faccio una cosa Io faccio quello che finisce E poi mi godo lo spettacolo Vengo beccato all'ultimo Salta, salta, simpailar Vengo beccato all'ultimo, però ho finito il tracciatore Adesso, vediamo Eh... Flore, final lap Beh, cos'è che vediamo? Vediamo, ok Che ricca È andato secondo Quindi dobbiamo goderci lo spettacolo tra i due Attenzione C'è un minino dosso che cacchia Sì, sì, è che... Primo, poi ti becca Significa che primo, poi ti becca Quindi Significa che il primo, poi non ci sto vedendo niente Significa che... Allora... Aspetta Ci metterà in attenzione Il tuo passo Il turbo Il turbo Il tuo passo Il tuo passo È caduto Caduto bagaggatto Però io sono Eh... Lezzo Beh, diciamo che... Allora, dovevi cadere Però non sei caduto, eh Quindi c'è questo Attenzione Attenzione Marco Dopo tanti tentativi è riuscito a fare il salto Attenzione Dovrei recuperare un po' di strada Guarda che lui è come te Non riesce ancora a fare le rapate Che si farebbero schianciando Eh, sì, è però Sal, 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 sal Prem lo scudo Cerchio, 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 cerchio Lo scudo C'è lo scudo Metti lo scudo, metti lo scudo Metti lo scudo E l'ho premuto, però non è partito Molo Che è quarto? Non è possibile con il partito Quarto è Marco Cioè, nel senso l'ho premuto troppo tardi E quindi... Eh, però... Usalo Eh, non è che mi immagino che lo prendo Non lo so quante grande Ma puoi usarlo anche... Puoi tenerlo pure adesso, eh Lo tieni, te lo ha All'infinito Dopo un po' finisce Però per un po' di dura E poi poi gli spararlo con cerchio Lo puoi usare come arma Ma per beccare qualcuna Tensione è la... La cura nel girare proprio Proprio... L'ho rex Però hai fatto una vittoria un po' alla Mario Kart Perché... Marcus stava andando bene Stava andando bene Finora Tu l'hai soppastato semplicemente per errore suo Ecco Però... C'è stata l'azione C'è stata l'azione Però... C'è stata che premiamo tutti i x Che facciamo un'altra gara su un altro circuito No, ma lui se ne deve andare No, se ne deve andare Ah, vero, ok Allora fai studio Stava una partita davvero emozionante, ok Beh, oddio Ok Comunque questo video che ho registrato Lo caricherei Mi sembra... Buono Vedare la mia dimostrazione Per dare almeno un'idea Di cosa stiamo combinando L'inizio di tutto Dell'online su PlayStation